Da mandare il soggetto di Genito, ci dice l'Evangelista Giovanni, riconosciamo che Dio non è qualcosa di vado, di astratto. Il nostro Dio è concreto, ha un nome. Dio è amore. Non un amore sentimentale di un Dio, ma l'amore del Padre che ha l'origine di ogni vita, l'amore del Figlio che muore sulla cruce e risorge, l'amore dello Spirito che rinnova l'uomo e il figlio. Oggi lodiamo Dio per se stesso, per la sua gloria e l'immensa. E lo facciamo anche celebrando l'anniversario di consacrazione religiosa di alcune maestre e vie. Hanno dedicato la vita all'unico ed eterno amore chi da 25 anni, chi da 50, da 60, da 70 e 80 anni. Lodiamo e ringraziamo il Signore per queste consacrime che nella loro vita si sono impegnate a farlo risplendere nella e con la loro esistenza. Lodiamo il Signore per la santità della beata Elisabetta, riconosciuta dalla Chiesa 25 anni fa e che attraverso l'opera educativa l'ha disseminata nella terra di Romagna, in modo particolare in questo paese di Coriano. Con il campo di ingresso ci prepariamo a cenerare queste eroginità, ad entrare nell'abbraccio della sua voce, del suo vero amore.